Rifiuti e sbarchi sono le due grandi questioni su cui politicamente la Lega Sicilia si sta confrontando, impegnando e assumendo delle decisioni forti. Perché è indispensabile chiarire qual è la posizione del partito a vantaggio del territorio di riferimento ed è quanto sta facendo, sottolinea responsabile, enti locali della Lega per la provincia di Ragusa, Andrea La Rosa, il nostro segretario regionale di Nominardo, che si sta scommettendo per mettere in chiaro qual è la linea della Lega Sicilia. È vero che non si può pensare a un'estate di sbarchi ed ecco perché il leader nazionale Matteo Salvini, sollecitato in questo anche dal nostro segretario regionale, ha sollevato il tema al Presidente del Consiglio dei Ministri. La Lega pretende un intervento serio e secco dal capo di governo e dal Ministero dell'Interno. C'è la consapevolezza di tutti che la Sicilia, quest'estate, la provincia di Ragusa in modo particolare, considerata la presenza del porto di Pozzallo, debba rinnovare serenità sanitaria, economica e sociale e non lo possa fare senza uno stop immediato all'immigrazione clandestina. È giusto anche quanto afferma l'onorevole Minardo, continua Andrea La Rosa, e cioè che queste persone non devono finire in mano ai trafficanti di esseri umani, ma devono restare a casa loro e lì essere aiutate. Nella nostra terra non siamo disposti a sopportare altri flussi migratori incontrollati. L'altro tema riguarda l'avvio della procedura per la realizzazione di due termovalorizzatori in Sicilia. E la notizia continua La Rosa che tutta la Lega si aspettava e ne sappiamo qualcosa noi in provincia di Ragusa, dopo i disagi subiti nelle ultime settimane, proprio a causa dei rifiuti. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha premuto il piede sull'acceleratore, concretizzando una scelta politica che finalmente consentirà alla nostra isola di uscire dalle decennali e croniche criticità nello smaltimento della spazzatura, criticità che tanti danni ha fatto all'ambiente e all'immagine della nostra terra, così come non ha mancato di rilevare Minardo. Con i termovalorizzatori quindi diciamo basta all'emergenza dei rifiuti, conciliando tecnologie e rispetto per l'ambiente, i due impianti di ultimissima generazione saranno situati uno in Sicilia occidentale e l'altro in Sicilia orientale, con la gestione che sarà affidata ai privati, ma ovviamente con il controllo pubblico, conclude la Rosa, mentre la schiavitù delle discariche ce la lasceremo alle spalle.